Il fatto grave, molto grave che sta accadendo, purtroppo a Napoli c'è una minoranza incivile che non ama la nostra città, ma la maggioranza è fatta di persone per bene, è solo una persona che non ama la nostra città, si può svegliare la mattina e incendiare un cassonetto, è solo uno che non ama Napoli, chi lo fa è meglio che se ne vada questa città se non vuole cambiare perché Napoli sarà sempre di più la Napoli dei ragazzi di queste scuole, cioè che vogliono restare a Napoli e non andarsene per una città più vivibile.